Eccoci qua per un nuovo unboxing Lego, sempre una delle nostre passioni in Giappone, quindi abbiamo scelto questo set che è la Skyline di Tokyo, fatta ovviamente di Lego. Sul retro della scatola, quella che sto guardando, spiega velocemente cosa sono questi, diciamo, sono monumenti e luoghi di Tokyo, andiamo ad aprirla, ecco qua, il manuale lo guardiamo dopo, vediamo, i sacchettini sono numerati e quindi sarà piuttosto veloce da montare, perché appunto poi le istruzioni seguono l'ordine dei sacchettini e quindi non bisogna ricercare i pezzi come se fosse un puzzle, è vero che i sacchetti non sono tantissimi, però questo è un Lego di circa 550 pezzi, quindi questo si monterà velocemente, c'è anche un cava pezzi, vedo dentro, che fa sempre comodo, i pezzi più piccoli sono ancora separati da quelli più grandi, mentre nel manuale dentro c'è qualche foto di Tokyo e riprende un po' l'ultima, diciamo, di copertina, questo è il celebre vista del Montefugi da Tokyo, ora se andate a Tokyo una volta finita la pandemia, cioè difficilmente vedrete questo, secondo me la maggior parte del tempo in realtà il cielo non si vede neanche perché è pieno di grattacieli altissimi, quindi spesso non si riesce neanche a vederlo, però sicuramente in determinate condizioni, in determinati punti si può vedere e qui, a differenza diciamo degli altri sette Lego che non ci sono solo le istruzioni, ma ci sono queste foto introduttive, i monumenti sono la torre di Tokyo, c'è un grattacielo di Shinjuku, un parco e poi c'è il famoso incrocio di Shibuya, ecco che volevo dire, magari c'è secondo me Tokyo, ora divago un po' dal Lego, però da un punto di vista di architettura, monumenti, non è che poi ci sia effettivamente molto, le cose più belle magari sono questi paesaggi urbani notturni, tipo l'incrocio di Shibuya, tutti illuminatissimi con i fiumi di gente, comunque questo nel Lego non lo vedremo e quindi comunque andiamo a montarlo. Ecco abbiamo completato la costruzione dei pezzi contenuti nei sacchetti marcati con il numero uno, abbiamo il parco Chidori Gafushi o qualcosa del genere di Tokyo chiaramente, questo è la ciliegie in fior e soprattutto la torre di Tokyo che è un po' la risposta giapponese alla torre Eiffel, questo ruota, è tutto un po' delicatino, però insomma dal vivo è carino, questa è la base, la base che è grande così, non è enorme e anche come larghezza credo che questo sia poi il pezzo più largo di tutta la costruzione, quindi non occupa tantissimo spazio, l'unico punto che si può fare è che il manuale di istruzioni, ad esempio in questo caso la base è tutta composta da pezzi neri, è su sfondo nero, insomma non si vede tanto bene, però insomma va detto è anche molto facile da costruire e quindi ci accingiamo a completarlo praticamente. Ecco abbiamo aggiustato un attimo la torre di Tokyo e la pagoda perché c'erano dei piccoli errori di costruzione, poi abbiamo finito il lego aprendo il secondo sacchetto che conteneva il resto dei pezzi e fare questo palazzo qua con questa bella forma sinuosa non è stato facile, cioè fortunatamente sono pochi pezzettini, quindi la fine ce l'abbiamo fatta ma le istruzioni non erano tanto chiare, poi abbiamo ultimato anche l'incrocio di Shibuya al Tokyo Big Sides, quest'altra torre ormai anch'essa simbolo di Tokyo, questa in realtà si illumina tutta e poi soprattutto c'è il Monte Fuji che è un tocco un po' insomma carino così sullo sfondo dello skyline, dal vivo è anche più bella che in foto, soprattutto vista da lontano magari come soprammuovile fa la sua figura e quindi magari era un po' scettico su questa serie architettura degli skyline, però magari ne prenderemo anche un'altra magari di qualche posto in cui siamo stati perché insomma fa la sua figura, quindi continuate a seguirci per altri video Lego, magari iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche e quindi a presto, va a finire!